Nel momento più delicato del suo viaggio in Africa, quando la preoccupazione per la sua sicurezza è massima, Papa Francesco si lascia abbracciare dai bambini del campo profughi di San Salvatore Bangui, che ospita un migliaio di rifugiati che vengono dai quartieri periferici della capitale, cristiani ma anche musulmani sfuggiti alle violenze delle fazioni di Seleca e Antibalaca. Arrivato nel campo, il Papa carezza, abbraccia e baci i bambini, che sono la maggioranza, con le donne, nel campo allestito dall'UNHCR e l'Agenzia ONU per i rifugiati. Legge i loro cartelli con le parole pace, perdono, unità e amore, e le madri gridano la guerra è finita. Quando raggiunge il leggio preparato sotto una tettoia per ripararlo dal forte sole equatoriale, il pontefice parla abbraccio in italiano. Ho letto quello che i bambini hanno scritto, dice Noi lavoreremo e faremo di tutto, ma la pace senza amore, amicizia, perdono non è possibile. Ognuno di noi deve fare qualcosa. Io auguro a voi e a tutti i centrafricani la pace, una grande pace fra voi, che possiate vivere in pace qualsiasi sia la vostra etnia, cultura, religione e situazione sociale. Perché noi tutti siamo fratelli. E chiede di ripeterlo in sangue la lingua locale, eque eie che aita. E quando lascia il campo circondato dai bambini in festa, le madri ripetono, la guerra è finita.